La tredicesima edizione dell'OMC, l'Offshore Mediterranean Conference 2017, che Ravenna ospiterà dal 29 al 31 marzo, si preannuncia come una grande e prestigiosa vetrina internazionale per il settore dell'oil and gas. A quasi due mesi dal grande evento è stata confermata la presenza a Ravenna del Ministro del Petroli e delle Risorse Minerali dell'Egitto, Tarek El Mollah. Il Ministro egiziano parteciperà il 29 marzo alla sessione plenaria di apertura e all'incontro sul tema Transazione verso un mix energetico sostenibile, il contributo dell'industria e l'oil and gas, e a una delle sessioni speciali dedicate al Mediterraneo, nuovo hub del gas per l'Europa, anche alla luce delle importanti scoperte effettuate e dei futuri programmi di esplorazione. Il gas combustibile fossile più sostenibile, ha sostenuto i 900 titoni di OMC, guiderà la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e alla luce dell'aumento di consumi in Europa e in Asia, l'innovazione dell'industria energetica è fondamentale per affrontare le sfide ambientali e ottimizzare i costi di sviluppo.